Si è tornato oggi in aula a Messina dopo che il gruppo del Tribunale Tiziano Alleanza ha rigettato le istanze di patteggiamento proposte da quattro imputati coinvolti a vario titolo nell'inchiesta della Procura Peloritana su indagini pilotate e devistaggi denominata Sistema Sinacusa. Il giudice ha ritenuto infatti incongure le ipotesi di condanna avanzate dai legali difensori dell'avvocato Giuseppe Calafiore e dell'ex PM di Sinacusa Giancarlo Longo e dei consulenti tecnici Giuseppe Cirasa e Francesco Corrado Perricone. I quattro sono tornati questa mattina in aula per affrontare l'udienza preliminare nel corso della quale i rappresentanti della pubblica accusa dovranno formalizzare le richieste di rinvio a giudizio sempre che qualcuno di loro non opterà con la richiesta di accedere al rito abbreviato per ottenere lo sconto di un terzo della pena. L'avvocato Piero Amara tra i principali protagonisti della vicenda Sistema Sinacusa ha rinunciato invece in precedenza al patteggiamento anche perché i PM di Roma non hanno ritenuto congura la pena da applicare richiesta dai legali difensori del legale siracusano. Il gruppo Leanza ha invece accolto le richieste di patteggiamento a due anni in reclusione con la sospensione condizionale della pena avanzata da Bruno Gastaldi che doveva rispondere al reato di recettazione perché compiva operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro del genero, l'ex PM Giancarlo Longo. In particolare da quanto emerso all'inchiesta si prestava ricevere in contanti somme di denaro destinati a remunerare l'attività del magistrato a cui in seguito faceva prevenire tali somme attraverso operazioni bancarie, fatti che si sono consumati tra Siracusa e Napoli tra il gennaio 2013 e il marzo 2017.